Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Ancora una settimana e tornerà il Festival di Sanremo. Per il quinto anno consecutivo il direttore artistico sarà Amadeus. 30 cantanti, 27 big e 3 giovani, si esibiranno sul palco dell'Ariston e come sempre a decretare il vincitore sarà il pubblico tramite il sistema del televoto. Una giuria della sala stampa, tv e web, composta da rappresentanti dei media accreditati al Festival, una giuria delle radio, formata da emittenti radiofoniche, nazionali e locali, individuate secondo criteri di rappresentanza dell'intero territorio italiano. A pochi giorni dall'inizio della gara Canora, però, uno degli artisti più amati è stato colpito da un terribile lutto. Con grande dispiacere Umberto Tozzi ha dovuto dire addio a suo fratello Franco. Il fratello maggiore, anche lui musicista, si è spento il 29 gennaio all'età di 79 anni. A darne la notizia è stato proprio lui che, sulla sua pagina Facebook, ha scritto «Ringrazio dal profondo del cuore tutte le persone che mi sono vicine in questo momento di grande dolore». Riposa in pace, Franco. Tanti colleghi, personaggi del mondo dello spettacolo e fan si sono stretti a Umberto Tozzi per il grave lutto e hanno lasciato messaggi di cordoglio per ricordare il compianto Franco e il grande contributo che ha dato alla musica insieme al fratello.